è il momento wow wow sembra che ci sia qualcosa che ti piace in questo pianeta Rose, altro? tu sei la mia migliore vista allora io posso capire che la mielosità non è per tutti che il romanticismo non è per tutti posso capirlo posso capire che è quasi un permesso quello di poter essere cringe nella coppia perché se cadi con qualcuno che lo vede come troppo mieloso potresti fare una brutta figura ma se tu dici I like the view lui fa oh ti piace per la prima volta oh per la prima volta lui vede che c'è un'apertura di bontà finalmente ti piace qualcosa allora decide ok mi butto fancura il fatto che possa aprire cringe lo dico you are my best view a te piace sta roba? beh a me piaci tu perché sta roba che ti piace l'ho fatto per te you are my best view e tu reagisci con gnie non ci siamo e non ci siamo mai stati e non ci saremo mai non ci siamo mai stati non ci saremo mai stati non ci saremo non ci saremo Grazie.